Video extra rispetto alla programmazione sul canale sportivo ma è un video fondamentale visto che è una notizia di quelle importanti di cui bisogna parlare non è un video preparato come i precedenti è un video letteralmente a caldo in cui commentiamo il ritiro di Valentino Rossi che è arrivato in maniera ufficiale pochi minuti fa nella conferenza che anticiperà il Gran Premio di Austria-Eisteria doppio appuntamento per la ripresa del Moto Mondiale 2021 è un video che parlerà un po' delle mie opinioni a caldo su cosa ne penso del ritiro di Valentino Rossi da tifoso della Ducati e facciamo anche comunque un giusto tributo a quello che a prescindere va riconosciuto come una leggenda di questo sport e poi vi dirò onestamente se condivido o meno il suo ritiro partiamo però dalla notizia riportata in questo caso poi andiamo all'articolo di motociclismo.it dove appunto viene ufficializzato il ritiro di Valentino Rossi che non sarà immediato appunto come riporta l'articolo ma sarà al termine della stagione 2021 che appunto terminerà a novembre con il Gran Premio di Valencia in totale Valentino Rossi ha totalizzato 26 stagioni nel Moto Mondiale ha vinto 9 volte il titolo del mondo tra tutte le classi 7 soltanto nella categoria regina facciamo quasi 8 perché il titolo del 2015 di fatto l'avrebbe vinto Rossi ma appunto ufficialmente l'ha vinto Lorenzo per la grande combina spagnola che ci fu tra Marquez e Lorenzo fatto sta che al netto dei numeri, al netto di tutto Rossi è una leggenda evidentemente di questo sport e da un certo punto di vista è anche brutto vedere una leggenda che si ritira ma è anche altrettanto vero che i campioni debbano finire il suo ciclo e debbano evidentemente lasciare spazio anche ad altri soprattutto in un anno come questo dove Valentino Rossi anche sul campo, sulla pista meglio visto che parliamo di motorsport evidentemente non aveva più il rendimento come gli anni passati quest'anno ha riuscito a malapena a centrare delle top 10 con una Yamaha SRT oggettivamente non all'altezza e lo si vede anche nelle prestazioni di Franco Morbidelli che pure un podio l'ha portato a casa l'unica differenza appunto tra Morbidelli e Rossi è che Rossi ha una moto ufficiale con le forniture di casa madre Yamaha mentre Morbidelli no eppure la Yamaha SRT fa fatica a differenza della ufficiale dove Quartarò quantomeno riesce a metterci una grossa pezza ed è al momento il leader del mondiale MotoGP quello che comunque fa dispiacere da un certo punto di vista è che Rossi si ritiri non al meglio della carriera è un ritiro che io mi aspettavo onestamente appunto per i rendimenti che si sono visti in pista da tifoso esterno mi dispiace che appunto Rossi concluda questa carriera quasi in disarmo quasi come appunto un pilota impotente un pilota che debba ritrovarsi diciamo costretto a lottare sul fondo della griglia con piloti che onestamente non ne valgono manco un decimo del Rossi anche attuale capisco che comunque la strada da percorrere poteva essere questa e poche altre si vociferava visto che l'anno prossimo entrerà il team VR46 MotoGP evidentemente di una ancora continuazione della carriera di Valentino Rossi ma è ovvio che se si continua in questo modo e Rossi finisce praticamente non dico ultimo ma in zona dopo la musica è evidente che non avrebbe senso continuare nel 2022 e magari anche il 2023 visto che si parlava addirittura di un contratto biennale a gareggiare semplicemente per nome e non per rendimento in pista è un po' di tempo in realtà che Rossi sta avendo dei riferimenti in pista veramente orrendi dei rendimenti in pista che non sono degni del Rossi che fu è altrettanto vero che secondo me appunto dopo il 2016 perché comunque nel 2015 appunto successo è quel che è successo nel 2016 comunque Rossi fu ancora competitivo dal 2017 in poi Rossi ha sempre fatto fatica non ha mai ripetuto gli usati dei tempi che furono anche perché comunque ricordiamo Rossi non è più un ragazzino ha 42 anni compiuti e deve lottare con delle personalità dei piloti che hanno la metà dei suoi anni se gli va diciamo bene e se gli va male sono gente che ha praticamente la mia età quindi 26-27 anni nel pino della loro maturità agonistica e con moto oggettivamente più competitive della attuale Yamaha SRT dal punto di vista appunto del rendimento sui vari circuiti è un ritiro che io condivido onestamente appunto era impossibile sperare in un esito migliore dal mio punto di vista con questi rendimenti certo da un certo punto di vista dispiace perché a un campione si ritira ma è anche normale così i campioni vanno a cicli così come si ritirò Schumacher nel 2006 chiudendo un ciclo è giusto che Valentino Rossi lo concluda certo è brutto da tifoso esterno vedere un Valentino Rossi in disarmo ma ripeto in questo caso scelte diverse secondo me non ce n'erano Rossi ha avuto tanti pro ha avuto il pro di come dire rendere il moto mondiale quantomeno categoria MotoGP molto più popolare e molto diciamo alla portata di gente che magari prima non l'avrebbe seguito Rossi ha diciamo fatto risuonare tante volte l'inno italiano sui vari circuiti della MotoGP e appunto ha fatto come dire avvicinare tantissima gente al tifo per Valentino Rossi più che per la MotoGP Rossi poi quindi di conseguenza visto che era un pilota vincente fino appunto agli anni che ho citato ha portato un impatto mediatico una risonanza che veramente difficilmente si rivedrà nel moto mondiale da qui agli anni a venire perché anche un Mark Marquez che oggettivamente è un fenomeno antipatico quanto volete ma è un fenomeno non avrà mai il rendimento mediatico e l'impatto mediatico che Rossi si è portato dietro il contro di questo impatto mediatico è aver sempre avuto magari spesso stampe e gran parte dei tifosi dalla parte di Rossi indipendentemente da quello che succedeva ed è una cosa che a me sinceramente non è mai piaciuta in generale a prescindere dal fatto che sia Rossi Marquez Dovizioso o la Ducati il motorsport in generale è una disciplina dove bisogna essere oltre che tifosi secondo me obiettivi e in alcuni casi con Rossi protagonista difficilmente si arrivava all'obiettività stesso discorso quando magari si creavano le fazioni dei tifosi di Marquez e i tifosi di Rossi anche in Italia obiettivamente non solo questa è una cosa che in generale non ci deve essere certo con i grandi campioni è molto facile schierarsi l'impatto mediatico diciamo che ha portato in modo molto ultra dal mio punto di vista lo schieramento contro favore di Valentino Rossi è sbagliato ed è sbagliato secondo me contro chiunque sia protagonista nel motorsport va detto che comunque il motociclismo probabilmente con il ritiro di Rossi probabilmente non accappierà più i tifosi che si erano avvicinati appunto grazie a Valentino ma evidentemente rimarrà negli occhi la leggenda che Valentino Rossi ha costruito sulla pista perché appunto nove titoli del mondo nell'era moderna è stato veramente un'impresa che non è mai stata ripetuta ci sta ripetendo Mark Marquez ma Mark Marquez ha netto che adesso corre mezzo infortunato ma comunque è un pilota che per meriti sul campo tranne magari qualche caso si può sedere allo stesso tavolo secondo me con Valentino Rossi per talento puro evidentemente è una cosa difficilissima da ripetere sarà una MotoGP secondo me molto più equilibrata adesso dal punto di vista del talento lo è già adesso Rossi purtroppo in questa MotoGP non è più un fattore ripeto è un ritiro condivisibile appunto perché da anni e anni Rossi non è più quel pilota dominante che vinceva i mondiali o che era competitivo anche solo per il podio Valentino Rossi comunque ha già raccolto successi manageriali oltre la carica dei piloti perché dobbiamo ricordare che comunque l'apporto di Valentino Rossi sarà importantissimo sotto un'altra veste ricordiamo che la Sky Racing Team VR46 ha prodotto campioni del mondo per quanto riguarda soprattutto la Moto2 vedi per esempio Bagnaia e Morbidelli che sono prodotti del appunto recito da buia e tutta la filiera Academy VR46 e sarà lì che dunque Valentino Rossi dovrà raccogliere nuovi successi per appunto continuare a promuovere una squadra di giovanissimi piloti italiani che sta venendo su e che dovrà comunque continuare a tenere alto il nome indirettamente della filiera VR46 e di anche Valentino Rossi si vociferava appunto che ci fosse l'ingresso dello stesso Rossi come pilota nel suo team VR46 su Ducati che appunto correrà dal prossimo anno in MotoGP ma oggettivamente è una cosa che aveva un po' della fantascienza perché appunto se i rendimenti in pista sono quelli di finire non dico ultimo ma appena sopra non avrebbe senso correre tanto per d'accordo che Rossi e quindi anche se Rossi finisce 35esimo ci sarà la folla di tifosi che comunque lo guarderà e lo seguirà ma da pilota è evidentemente immagino frustrante giocare per un obiettivo che non è vincere il pilota è lì per un motivo ed è vincere un titolo del mondo Rossi non è in grado in questo momento per più che altro dei meriti della moto ma anche in pista dei meriti suoi con pecialità e anche altri fattori di non poter competere a questi livelli dunque è giusto chiudere al termine di questa stagione la carriera agonistica una carriera agonistica che l'ha visto assolutamente protagonista e che comunque farà ricordare a tutti i tifosi appassionati casual appassionati ventennali tifosi come me che segue la MotoGP ma per la Ducati ma comunque ha avuto modo di fare il tifo per Valentino Rossi quando la Ducati non era coinvolta di ricordare appunto il pilota marchigiano come una leggenda di questo sport dunque è giusto celebrarne il tributo per quello che è stato in pista ed è giusto anche dire cosa ne penso effettivamente del ritiro un ritiro condivisibile che arriverà ricordiamolo al termine della stagione 2021 detta questo è una mia opinione personale non è un video evidentemente contro Valentino Rossi è un ritiro che ripeto è condivisibile voi tifosi di Rossi che mai guarderete questo video siete d'accordo con il ritiro del vostro campione del vostro pupillo fate sapere nel caso che non abbiamo pensato in un commento qui sotto il saluto da parte di Meteo Torgard riprenderemo la programmazione concreta del canale sportivo già questa domenica perché c'è il mondiale superbike in contemporaneo ovviamente alla MotoGP per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria e parleremo prima del Gran Premio di Repubblica Cieca di Superbike e poi due giorni dopo del Gran Premio d'Austria di MotoGP per quanto riguarda il Gran Premio d'Austria